Ha partorito il secondo genito e poi l'ha messo nella lavatrice per lasciarlo morire lì. Non avrebbe fatto sapere nulla a nessuno se non fosse stata costretta a chiamare un'ambulanza per la pesante emorragia che è seguita al parto. Una storia tragica da risvolti che lasciano senza parole. Quella che vede protagonista una 21enne moldava residente da tempo a Carpi. Sabato notte la donna partorisce nel bagno di casa. Un travaglio veloce, i familiari che sono in casa con lei non si accorgono di nulla. Poi si sente male, viene portata al pronto soccorso dell'ospedale Ramazzini. La giovane confessa l'accaduto solo in interrogatorio davanti al magistrato. Nell'abitazione della donna i carabinieri trovano marito, figlia di 6 anni e madre ignari. Lì la macabra scoperta, il bambino è nella lavatrice. Non c'è più nulla da fare. La giovane è sotto fermo giudiziario con accusa di omicidio. Dopo aver confessato la 21enne è stata trasferita nel reparto carcerario dell'ospedale. La procura di Modena ha aperto un fascicolo. L'autopsia dovrà verificare se il bimbo è morto prima o dopo il parto. Resta lo sconcerto per un gesto dettato da una lucida follia, disperato di una donna che come molte altre, spesso straniere, si è vista senza scelte, nonostante esistano consultori delle ASL e associazioni di sostegno. O noi cerchiamo di intervenire sul disagio sociale oppure questi casi si ripeteranno sempre. Donne che si trovano senza alternative proprio? Donne senza alternative. Molte volte sono donne sole, che vivono in una completa solitudine. E molte volte, specialmente le straniere, non sono a conoscenza di questi servizi. Quindi bisognerebbe di più impegnarsi tutti, perché queste donne vengono a conoscenza di queste opportunità che ci sono. Di Coloreschi, SkyTG24, Carpi.